Miei cari amici, siamo felici di darvi il benvenuto al nostro show, la scienza divertente. Oggi, il nostro incontro, è dedicato alla zoologia. E il nostro ospite, è il famoso erpetologo, professore Aster. Permettetemi di ricordarvi, che l'erpetologia è la scienza, che studia anfibi e erettili. La guest star, che abbiamo invitato, è l'illuminato più famoso, di tutti i tempi, è Euclide di Alessandria, su cui libri, di resto, sono cresciute, intere generazioni di scienziati. E ora, il signor Aster, ci racconterà, e la sua storia. Allora, professore Aster, è vero che dalla Corea del Nord comunista, sei scappato, nella foresta incantata. Sì, quando ero un giovane scienziato, venni assunto, per fare ricerca biologica, per il regime comunista. Ha mai sentito, parlare del famoso esperimento, della rana bollita? Se prendi una comune rana, e la metti dentro, un recipiente con acqua calda, ovviamente non le piacerà, e cercherà di uscire più, velocemente possibile. Se invece, metti la rana, in un recipiente con acqua fredda, si sentirà a suo agio, e non cercherà di scappare. Ma se facciamo scaldare, molto lentamente, l'acqua nel recipiente, la rana non avvertirà, quei cambiamenti così lievi, e continuerà a godersi la vita. La temperatura dell'acqua, raggiungerà gradualmente, dei valori pericolosi. Ma la rana, non lo noterà, perché ormai è abituata, ai cambiamenti graduali. Quando la rana, inizia a spospettare, che qualcosa non va, è troppo tardi. A quel punto, è già stata indebolita, dal suo riscaldamento. Non riuscirà a uscire, e infine morirà, di una morte atroce. Sì, di una morte atroce. Che orribile sperimento. Ma a che scopo, il regime nordcoreano, conduce tale ricerca? In realtà, il comportamento umano, è molto simile, a quello di questa rana. Se effettui dei cambiamenti, in tempi sufficientemente lenti, puoi far sì che una persona, si abitui a qualsiasi cosa, anche la più terribile. Pertanto, i leader comunisti, attraverso queste crudeli sperimentazioni, cercano di elaborare, metodi per influenzare, la coscienza umana. È davvero orribile. Mi permette di sottoporre, alla sua attenzione, il significato più profondo, di tale esperimento. Le proiezioni future, relativamente al riscaldamento globale, e al generale deterioramento, della situazione ecologica, hanno trasformato l'umanità, intera in questa, rana bollita. Il riscaldamento globale, sta aumentando sempre di più, e noi continuiamo stupidamente, a utilizzare risorse preziose, per qualsiasi attività, del tutto secondaria, come se non stesse accadendo nulla di così terribile. E se un giorno, ci risvegliassimo su un pianeta, non adatto a ospitare la vita, e non avessimo più tempo, o energia a sufficienza, per correggere la situazione. Oh, sì. È una giusta osservazione, credo. Dobbiamo smettere, di fare delle cose insensate, e concentrare tutte le forze, per salvare, il nostro pianeta natale. Voglio ringraziare, il nostro ospite, per questa discussione molto interessante, e salutare i nostri telespettatori, dando gli appuntamento, al prossimo incontro, nel nostro show. Ciao ciao. Grazie a tutti.